Santiago Boffelli, siamo a un giorno da questo trofeo Belloni di Diterbo. Conosci le squadre che affronterete? Sapete già qualcosa? Sono i nomi delle squadre, ma... E basta? Non lo so, la prima volta che gioco contro di loro ho sentito i ragazzi che parlavano di qualche giocatore che in passato aveva giocato a Civitavecchia. Noi andiamo, per noi è un torneo di preparazione, cerchiamo di prenderlo il più seriamente possibile ma con l'obiettivo chiaro che è giustamente prepararci per quello che sarà l'inizio della C2 il 18 ottobre. Qual è lo stato di forma a questo punto della squadra? Adesso abbiamo finito due settimane di carico abbastanza pesante di lavoro, adesso stiamo cercando piano piano di cominciare a fare un po' più sullo specifico di basket però abbiamo un mese davanti, abbiamo parecchio tempo e penso che è abbastanza per arrivare in forma all'inizio del campionato. Qual è la cosa che hai apprezzato di più della nostra città di Civitavecchia? Guarda, io sto soltanto da 20 giorni, mi sembra una città molto bella, molto carina ma ancora non ho visto un granché, più che altro perché siamo stati allenandoci parecchio però mi piace il lungomare, poi la gente qui subito è stata molto disponibile con me quindi diciamo che finora il bilancio è positivo. È una città differente rispetto a San Vicente, la città da cui tu provieni? Sì, sì, qua è sul mare, San Vicente è lontano. Fa freddo? No, non fa freddissimo però è un po' in centro dell'Argentina, non c'è il mare, è pianura, non ci stanno montagne, niente quindi tutta un'altra cosa rispetto a Civitavecchia. Passiamo alle note dolenti, questa Argentina fuori dal mondiale, contro i rivali storici del Brasile è la parola fine su questo gruppo, ormai composto da giocatori sul finire della carriera? Penso di sì, ora come sempre ci vuole un ricambio, piano piano si stanno cominciando a vedere giocatori nuovi purtroppo quest'anno il mondiale non è andata bene, è mancato Ginobili, Delfino, Gutierrez che per quella squadra che avevamo che era già un po' corta, senza di loro è ancora diventata più difficile comunque è questa la realtà della palacanestro argentina oggi, quindi bisogna ricominciare piano piano senza disperarsi perché comunque sono stati 12-13 anni di buoni risultati adesso magari viene un periodo un po' più tranquillo in quanto a obiettivi però penso che il materiale ci sta per, non so se per ripetere una generazione come quella di Ginovri, Noccioni, Scola però ci stanno comunque buoni giocatori, un buon materiale in Argentina per lavorare a futuro Vuoi fare un saluto nella tua lingua ai nostri telespettatori? Ma solo saluto? Quello che vuoi, va, improvvisiamo Chiedo mandare un saluto a tutta la gente di Civitavecchia e spero che prossimamente quando impiese il campionato puedan venire a vernosi a giocare qui nel palazzetto e lo esperiamo con i braccii abierti Grazie